fatto non l'ho neanche sentito no ma puoi farlo non è quello il problema però devi perché è più difficile da attraccare la tasa e robe del genere poi fare trading per all binance è una tralea pe bannar poi usare binance ma non c'è una che sta scendendo po' aia e si escezò po' aripața ma io sono caduto giù l'ho finito vedo se ha lutto anche quella va bene due ompa loompa sono due team diversi dentro uno è morto l'altro dov'è? guarda 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 1, 2, 3 Vai Ma lui c'è ancora il recall, che se non è vero Sto guardando, non c'è nessuno C'è il chest, c'è il livello vestibolo Sì, sitting a bambino Come guarda che se figa Come guarda che se figa Maudono, c'è il cuore presso che cover bandagli tra? C'è una smog si riesce Eh cover man Non lo so a dove, sì ando in 4 No. 3, No. 2 da chavo il bambino il bambino Prendi gambino Rimamo l'eye Prendi la bambino Nerva 1 Nerva 2 Gambino Vono E' il mio che vuole vado. Io lo lasciarei morire. Sopra il testo c'è uno. Gli ho fatto un HS. Guida. Non posso mirare più in alto. E' il capo fuori, si. Ah, uno, due, due, tre, tre. O uno, tre, 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 tre. Nel mio hipfire quando salto giù fa schifo. E' qualcosa col non so cosa. Anche se c'ho la mira direttamente su di loro. Ah no, ma dal dinosauro normalmente va bene. No, a me non mi guarda per terra. A me i colpi non vanno dritti. Vanno dappertutto ma dritti. C'è gente dentro in midstream? Non c'entra io. E' sul balcone al massimo. All'altro è vinto. Ad sinistra, sinistra, sinistra. Vai, davanti. Vai, vai dietro. Vai dietro a pietra. Due colpi. Ah, uno di vita. Chiudo, faccio l'anni a tutti neanche una kill. Eh, porta un po' in dentro. Questi hanno l'anni a tutti. Li finiamo uno alla volta. Questo non aveva il grosso. Era un altro questo. Sì. Vai là, dietro la pietra. Vicino al dinosauro e alla pietra. E' questo qua davanti. C'è gente alla destra, vai. Vai, vai, davanti. Sinistra. Sono due, sono due. Oh no. Oh, è stato l'aggamento. No, è stato l'aggamento. Aspetta, cambio, non ti sento. Teletrasporto, 500 MS, 300, 200, 250. No, questo è stabile, però è il filo sopra il nostro rovinato. Cioè, di casa nostra. Questa è la più voce in Inghilterra. Sì, ma lui adesso ha cambiato. Lui adesso ha 350 MBTS. Sì, no, il suolo sì. C'è un'auto, c'è un'auto. L'ho provato. Ah, madonna che botta. Sì. Dentro la casa. C'è una scatola. C'è gente da hit. Non mi fa uscire. Vengo dalla porta. Vai. Oh, va, full tiro. Vai. H.S. Non dico che stai. C'ho il coso per volare. Sto restando il bot. Ehm. Posso chiamare il coso. Sta volando. C'è un cecchino. Va dietro e va sulla montagna. Sì. Mi ha dato troppo. C'è ancora quello dietro col cecchino. Eh, ti lancio. Eh, sono morto. Sono vivo. Esplode. Sono salvo, non so come. Non posso farti cover. Sei da solo. Dentro all'evento c'è gente. Sì. Riesce a scendere e cadere giù o no? Vabbè, deve essere riuscito. Ah no, ma c'è il cecchino qua. Se mi fa lui... Vai, sei safe. Finché non pushano, va bene. Un'altra parte è da apriamo qualcosa del genere. C'è un cecchino. No, no, c'era anche un cecchino, cecchino. C'è uno coltino. È in mezzo all'acqua. Sì, come se ti faccio salire? Sì, il bot sì. No, questo qua a destra. Questo era un bot. Quello che ho finito io. Cioè, ho rubato. Sì, era al suo. Era noccato. Sì, sto ricaricando. Uno, uno. Vai te, poi metto io. Uno è sopra. Ho usato il palloncino. Non so se è sopra o di lato. Avevo visto il palloncino, non so. È ancora qua, alla casa. Alla sinistra. O al lato a destra. Poi ce n'è uno anche verso di qua. Guarda. Sì, è sulla montagna, no? Aspetta. Sì. L'altro è la casa. Te lo pingo, tipo qua. Qua, questa casa qua. Se vengono fuori, posso farli. Aspetta. Sono morto io. Sì. Sono qua sopra il tetto. Quindi se ho... Sul tetto, sul tetto, tetto. Tutte, tutte e due. Più a sinistra. Più a sinistra. Eh, ma pensavo erano sopra di te. Cioè, ti stavo un po' sciando. No, mi sono sdraiato da sparare. Invece erano una sul tetto. No, non sono nabbi. Cioè, ero sdraiato, mi sono messo in piedi e non mi hanno ucciso. Quando sono alla fine, quando l'altro si è messo a sparare e si è morto. L'ultimo è fuori. Allora, davanti a te, verso south-west. No, c'ha... Sì, c'ha la MG3, sì. Te lo giuro, l'avremmo vinta. Gli ho fatto due HS e poi mi hanno sparato questi. Poi mi sono girato. Cioè, l'altro. Sì, no, ma dico... Adesso l'avremmo già vinta. Saremmo già nella prossima partita. Saremmo già nella prossima partita. Saremmo. Visi club. Io li usò pochissimo